Ciao tifosi del Napoli! Abbiamo una nuova notizia che sta dando il discorso. Il giovane e talentuoso attaccante belga Lois Openda è ambito da due grandi club italiani, Napoli e Inter, a soli 23 anni. Openda ha già segnato 15 gol in Ligue 1 con il Lens e potrebbe passare in serie alla prossima stagione, secondo il portale Finter News. La dirigenza dell'Inter ha già incontrato il leader di Openda e uno stagista italiano per discutere della situazione. Curioso notare che il giocatore è assistito dagli stessi legali di Dries Mertens, ex attaccante del Napoli che ha avuto. Un travagliato allontanamento dal club, ma è tifoso napoletano. Cosa ne pensi della possibile firma di Openda? Sarebbe un buon rinforzo per il Napoli? Lascia la tua opinione nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace e condividere con gli altri tifosi azzurri. Forza Napoli sempre!